Il progetto Protezione Famiglie Fragili, PPFF, nasce per creare una rete di supporti assistenziali psicologici e sociali, mirati al sostegno dei bisogni delle famiglie particolarmente vulnerabili, che si trovano ad affrontare anche la malattia oncologica, sostenuto e promosso dalla Fondazione Faro di Torino e dalla Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta. Il progetto è stato avviato nell'Asul Novara nel mese di aprile 2020. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS